Buonasera a tutti, ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telenova e con il nostro TGN che apriamo parlando di politica perché Letizia Moratti sostiene di sperare ancora in un accordo elettorale con il Partito Democratico, Maiorino le ha risposto, Attilio Fontana ha fatto altrettanto, insomma un'altra giornata di campagna elettorale all'ombra di Palazzo Lombardia che Alberto Carreras ci riassume così in questo servizio. Continuo a sperare in un'apertura da parte del Partito Democratico, magari in forme e modi che potranno evolvere in queste settimane, ma spero che un'apertura ci possa essere, lo ha detto oggi Letizia Moratti. Io sono sempre aperta al dialogo, quindi naturalmente se ci sarà la possibilità, ripeto, la mia apertura c'è. Con il Partito Democratico ha giunto, ho cercato di impegnarmi a un confronto su temi quali ambiente, lavoro, legalità e sanità pubblica. Ho ritenuto di poter dare un contributo per una Lombardia che da dieci anni non cresce, che ha un indice di competitività più basso dell'indice europeo, che ha un indice di digitalizzazione più basso di quello europeo, che ha un paio di province che sono sotto la media del PIL nazionale. Le ha risposto il governatore Attilio Fontana. Credo che la dottoressa Moratti non abbia ascoltato bene o per niente quello che hanno detto due giorni fa i principali interpreti dell'economia delle università italiane. Hanno sottolineato come la regione Lombardia sia di gran lunga la prima e l'unica che può confrontarsi con l'Europa. Intanto Pierfrancesco Maiorino del centro-sinistra ha dichiarato rispetto Letizia Moratti, ma non comprendo come mai, volendo dialogare con noi, abbia per due anni votato a favore di tutti i provvedimenti della giunta che oggi contesta. Infine, sempre nella giornata di oggi, Più Europa ha ribadito che Pierfrancesco Maiorino è un buon candidato per il centro-sinistra. L'intenzione è sostenerlo, ma l'operazione nel caso fosse sostenuta anche dai Cinque Stelle assumerebbe un carattere populista, a noi estraneo. Più Europa, un minuto dopo, uscirebbe dalla coalizione. Lo ha scritto in una nota Valerio Federico della Segreteria Nazionale del Partito. E si è parlato oggi, in particolare l'ha fatto Attilio Fontana, di sanità perché al Palazzo Lombardia c'è stata una conferenza stampa indetta per illustrare il piano regionale sulle liste d'attesa. E a margine di questo evento il Governatore ha parlato anche dei trasferimenti statali che riguardano appunto il capitolo della sanità. A questo punto mi alleo con il Presidente De Luca e dico anche io che voglio essere riportato quanto meno alla media nazionale. Noi siamo 8 euro a persona sotto questa media. È chiaro che non posso accettare di fare ulteriori riduzioni o rinunce. È una questione illogica oltre che iniqua queste le sue parole e poi ha spiegato che un accordo non è stato trovato ma noi non possiamo accettare che venga fatta una distribuzione sulla base di criteri che non sono ancora parte della legge e che non sono stati controllati da nessuno. In ogni caso la questione che io ritengo prioritaria è che la Regione Lombardia risulta sotto la media dei trasferimenti. Dietro di noi solo due regioni che ricevono meno, Lazio e Campania. Io credo che se un sacrificio si deve fare lo dovrebbero fare innanzitutto le regioni che ricevono risorse in più. Dicevamo delle liste d'attesa. Qui Fontana ha esultato perché c'è un piano sostanzialmente per rivederle, per annullarle o quantomeno evitare che siano così lunghe. 66 mila lombardi verranno ripiazzati nelle loro visite, però è netto e sarcastico il commento di Pierfrancesco Maiorino. A Tiglio Fontana come Alice nel Paese delle Meraviglie scopre oggi che vi è una drammatica situazione delle liste d'attesa. Da mesi non passa giorno che singoli cittadini, sindacati e non ultimo le forze politiche di opposizione evidenzino l'indegna situazione legata alle attese per essere visitati. La soluzione i cittadini lombardi la conoscono benissimo ed è quella di pagare di tasca propria le visite specialistiche a tutto vantaggio della sanità privata. Ora che si avvicinano le elezioni, guarda caso, scopre che ci sono 66 mila visite fuori tempo. Uno spot elettorale. Il rispetto dei tempi d'attesa in sanità non può essere un regalo di Natale ma deve essere la normalità. Il tema dell'accesso alle cure non può essere svilito nell'ennesima conferenza stampa show. Lo scrive in una nota il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gregorio Mammì. L'unico dato certo è che il centrodestra abbia fallito, non essendo stato in grado per scelta politica, di realizzare l'agenda unica del sistema di prenotazione che i lombardi attendono dal 2019, dice. Altro fronte sul quale si è soffermato il governatore Lombardo è stato quello delle borse di studio universitarie con Fontana che ha protestato per le risorse insufficienti e soprattutto del tutto simili a quelle concesse a regioni che hanno uno o due atenei universitari. Il ministro per l'università e la ricerca, Anna Maria Bernini, ha risposto così a quanto sostenuto dal presidente di Regione Lombardia. Sì, poi ci sentiremo, mi spiegherà come, perché in occasione dell'inaugurazione di anno accademico mi sono state sottolineate alcune criticità. Io ascolto tutto, segno tutto e non so se sia regionale o del MUR la questione che non consente alle borse di studio di raggiungere il numero sufficiente di studenti. Comunque sono disponibilissima a parlarne, a capire qual è il problema e a risolverlo. Apriamo l'ampia pagina di Cronaca Nera. È stato trovato in un appartamento o nelle case popolari di Via Lope de Vega a Milano il corpo senza vita di una donna. Il marito si è autodenunciato e poi ha lasciato la scena del crimine. È stato rintracciato poco dopo in una strada vicina e fermato. Una donna è stata uccisa in casa stamane a Milano dal marito che subito dopo è stato rintracciato e fermato dai carabinieri. Il delitto è avvenuto in un appartamento in Via Lope de Vega numero 1 in zona Barona e la vittima è stata colpita al torace con un'arma da taglio, numerose le ferite inferte. Secondo quanto riferito dai carabinieri il presunto omicida, un uomo di nazionalità egiziana, subito dopo i fatti ha chiamato il 112 dicendo ho ucciso mia moglie e poi si è allontanato dall'appartamento, presumibilmente ancora sconvolto per il delitto. Sul posto in Via Lope de Vega si è recata la polizia competente per zona ma lui non c'era. Poco dopo è stato individuato per strada in Viale Liguria, non distante dal luogo del presunto omicidio da una pattuglia dei carabinieri. I militari lo hanno avvicinato e lui avrebbe subito ammesso la propria responsabilità consegnandosi. La coppia aveva quattro figli, secondo una vicina di casa l'uomo aveva sempre atteggiamenti violenti nei confronti della moglie. Altri vicini hanno parlato di bisticci frequenti, lei era una bravissima persona, lavorava e si occupava dei quattro figli. Sentivamo spesso urla provenire da quell'appartamento ma nell'ultimo periodo le liti si erano intensificate. Si è chiuso intanto con una conferma dell'assoluzione di primo grado dall'accusa di concorso in omicidio volontario e ad oltre dieci anni di distanza da quei fatti il processo milanese a carico di Milos Stizanin, 28enne di origine serba, che era nella stessa auto di Remy Nikolic all'epoca minorenne, già condannato perché alla guida dell'auto che travolse e uccise l'agente di polizia locale Nicolò Savarino a Milano il 12 gennaio del 2012. I familiari di Savarino, che hanno sempre criticato gli esiti giudiziari della vicenda, nel corso di questo processo d'appello hanno rinunciato alla costituzione di parte civile. È rimasto invece, come parte civile appunto, il comune di Milano, condannato oggi pure al pagamento delle spese processuali. Nikolic era stato condannato in via definitiva per l'omicidio a 9 anni e 8 mesi dai giudici minorili e aveva prima ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali e poi aveva finito di scontare la pena. Ora è ai domiciliari per un procedimento su alcuni furti per il quale era stato arrestato nuovamente. Due ragazze di 23 anni sono state aggredite la scorsa notte in via Vittor Pisani, nei pressi della stazione centrale di Milano, da un 26enne e da tre sue amiche, tutte 14enni, che le hanno rapinate del cellulare minacciandole anche con una grossa catena da moto. È accaduto intorno alle 4 e mezza di notte, quando le due, entrambe romene, sono state avvicinate dai quattro che le hanno malmenate prima di prendere loro un iPhone. Dopo la chiamata di soccorso delle due, una pattuglia della polizia ha rintracciato i quattro in via Boscovic. Il ragazzo, un marocchino irregolare e con precedenti, è stato fermato, mentre le sue tre amiche, tutte incensurate, sono state denunciate in stato di libertà per concorso nello stesso reato. La sera precedente, intorno alle 22, nella vicina piazza Duca d'Aosta, un passante di 42 anni è stato avvicinato da due nordafricani che, minacciandolo con un coltello, lo hanno poi rapinato. Uno dei due, un 31enne marocchino irregolare e con precedenti, è stato poi rintracciato nei dintorni della stazione e arrestato. Gli attivisti di Extinction Rebellion hanno bloccato per due ore l'ingresso della sede RAI in Corso Sempione a Milano. Hanno poi imbrattato la facciata con della vernice verde e scritto sui muri dell'edificio con una bomboletta. L'azione è stata però interrotta dalla polizia che era già sul posto. I due gruppi hanno scritto una lettera indirizzata al caporedattore del telegiornale per chiedere un bollettino aggiornato sulla qualità dell'aria a ogni edizione, che il servizio pubblico renda pubblico l'elenco degli inserzionisti che si occupa di estrazione fossile e che non si parli più di disastri ambientali ma di crisi ecoclimatica. La polizia di Stato è intervenuta, ha identificato una ventina di partecipanti, alcuni dei quali erano saliti su una tettoia, come vedete dalle immagini. 14 di loro sono stati denunciati. Giù le armi e sui salari. Questo è lo slogan dello sciopero generale proclamato dalla galassia dei sindacati di base contro la manovra economica del governo e per la pace, per stipendi, diritti, pensioni più adeguate ovviamente, sanità, scuola e case pubbliche e di qualità. Sono previste manifestazioni in molte città, con le concentrazioni principali a Roma davanti al Ministero dell'Economia e della Finanza in via 20 settembre dalle 10 e a Milano, qui a Milano, di fronte ad Assolombarda in via Pantano alla stessa ora. I redditi in Italia non crescono, sottolineano i rappresentanti dei lavoratori. È un dato di fatto che i salari del nostro paese, unico tra quelli oxe, sono più bassi rispetto a quelli di 30 anni fa. A questo si aggiunge l'esplodere di un'inflazione a due cifre che sta spingendo altri milioni di persone sotto la soglia di povertà. I sostegni messi in campo dal precedente governo si sono rivelati assolutamente insufficienti, come la linea in intervento messa in campo dalla neoeletta Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che si muove nella medesima direzione. Torniamo a Milano. Lo facciamo perché ci sono varie problematiche legate al trasporto, sia quella dell'aumento del biglietto, sia di altri eventuali aumenti. Oggi nuovo capitolo delle polemiche tra maggioranza e opposizione con il rappresentante della Lega in Regione Lombardia, Andrea Monti, che dopo aver sottolineato che l'aumento del biglietto non è una scelta regionale o un qualcosa di automatico, bensì una decisione sostanzialmente presa dal Comune di Milano, secondo lui, dicendo che l'Agenzia di Baccino ancora non si è assolutamente l'Agenzia del TPL di Baccino non si è ancora pronunciata sulla cosa, però ha posto anche l'accento su ulteriori problematiche e paure che l'esponente della Lega ha elencato in questo modo. Siamo altresì preoccupati dei progetti della città di Milano di aumentare addirittura a 10 euro il ticket di ingresso all'area C con prospettiva di applicarlo anche all'intera area B, in un regime in cui continua a permanere il divieto di circolazione delle Euro 5 diesel che sta mettendo in difficoltà famiglie e numerosi cittadini che fuori Milano abitano ma che si recano in città ogni giorno per curarsi, per lavoro o per studiare. Chiediamo al sindaco Beppe Sala di ritornare sui suoi passi e di aprire una serie interlocuzione con Regioni Lombardia. Ma non c'è solo l'opposizione che attacca la giunta Sala, rispetto ad esempio all'aumento del biglietto arriva del fuoco amico, definiamolo così, ed è quello di Carlo Monguzzi, capogruppo dei Verdi, che sui social ha commentato così le dichiarazioni dell'assessore Arianna Censi appunto sull'aumento del biglietto ATM ordinario. Ridicolo. Aumentano i costi? Aumentiamo le tasse. Per dire ciò basta uno studente al primo anno di ragioneria, non c'è bisogno di una giunta. Noi di IDENE abbiamo a migliaia, ci sia un tavolo tecnico politico in cui affrontare trasporto pubblico locale, area B e area C, San Siro, quindi lo stadio, sta diventando insopportabile e per il Consiglio Comunale continuare a leggere le decisioni della giunta, peraltro sbagliatissime, sottolinea, solo sui giornali. Non passa giorno senza distinguo, polemiche, accuse di consiglieri della maggioranza verso la giunta e il sindaco. Leggiamo ogni giorno polemiche sul costo del biglietto, sui trasporti, su area B, sul verde, sullo stadio, sulla sicurezza. Milano non merita questo spettacolo, su temi fondamentali come lo stadio, Sala deve ricorrere ai voti della minoranza per andare avanti. Questa è una nota invece di Silvia Sardone, che vedete nelle immagini, commissario provinciale della Lega ed Eurodeputata. Cambiamo decisamente argomento, si sta diffondendo in modo elevato e prima del predisto l'influenza in Lombardia, particolarmente colpiti in questa prima fase i bambini. Quest'anno l'influenza stagionale preoccupa molto i medici e gli esperti virologi. La diffusione è avvenuta molto prima del previsto e anche l'intensità dei contagi non lascia ben sperare per la stagione invernale. Sono oltre 900.000 le persone che in Lombardia hanno già accusato i sintomi influenzali da settembre. Ben 137.000 nella settimana dal 14 al 20 novembre, un'incidenza che viene considerata decisamente alta. Solitamente l'influenza scoppiava dopo Natale, particolarmente colpiti i bambini. Il dato positivo è che 1.400.000 lombardi si sono già vaccinati. Pensare che l'anno scorso erano solo 270.000. In questo momento ci preoccupa di più l'influenza rispetto al Covid, ha detto l'assessore al welfare Guido Bertolaso. Comunque se tutti si vaccinassero l'influenza potrebbe essere messa sotto controllo. Tra coloro che si sono vaccinati il 36% sono over 65. L'obiettivo è giungere al 75%. Tra i ragazzi sotto i 16 anni non si va invece oltre l'8,4%. Troppo poco. La novità di quest'anno è che l'anti-influenzale è gratuita per tutti, senza limiti di età o di patologie. Ci si può rivolgere al proprio medico di famiglia. Ci si può recare nelle farmacie abilitate o nei centri vaccinali. Alcuni pronto soccorso hanno già registrato un notevole incremento di ingressi, causa influenza. Il consiglio è sempre quello di vaccinarsi, approfittando anche della gratuità del vaccino. A conclusione dell'anno di celebrazioni che hanno ricordato i 30 anni della morte di padre David Maria Turoldo, presso Palazzo Reale si è svolto un convegno dedicato a Turoldo e l'ecologia, con la presenza dell'arcivescovo Mario Delpini. Il servizio è di Anna Maria Braccini. Non un tema da salotto, ma una questione di vita o di morte. Questo era per padre David Maria Turoldo la salvaguardia dell'ambiente. Questione oggi di gran moda, ma anche oggetto di riflessioni pensose e profonde da parte della Chiesa, come testimonia. L'enciclica laudato sì, promulgata nel 2015 da Papa Francesco. Forse anche per questo la conclusione delle celebrazioni dell'anno Turoldiano, a 30 anni dalla scomparsa di questo straordinario poeta e sacerdote, morto 6 febbraio 1992, friulano, frate dell'ordine dei servi di Maria, resistente cristiano durante la guerra, voce sempre libera e controcorrente, ha avuto il sapore di un suggestivo viaggio nella memoria, ma anche di un immaginare quel futuro che riguarda la sopravvivenza di tutti. L'incontro ha visto la presenza di tanta gente. Con il titolo I cieli narrano la gloria di Dio, Turoldo e l'ecologia. Da un tributo di gratitudine al religioso e da ringraziamento alla comunità dei serviti, si è avviato il breve intervento iniziale del Vescovo Mario. Ho apprezzato in Turoldo questo uomo di preghiera, questo uomo che scrive perché prega, che traduce i salmi perché sono la sua preghiera. Poi l'attesa comunicazione di Hermes Ronchi, amico fraterno di sempre, confratello di padre Davide. È lui che delinea appunto la figura di Turoldo e l'ecologia. Lui non aveva una preparazione di tipo scientifico, non c'era tutta ancora questa visione, ma la sofferenza si poteva già intravedere. E lui parte dalla vastità dell'intuizione biblica e dalla sofferenza, dal grido dei poveri e capisce che il grido dei poveri è un unico grido insieme con quello di Madre Terra. Vi ricordo che dopo questo telegiornale e le previsioni del tempo verrà trasmessa la striscia quotidiana La Chiesa nella città oggi a cura di Anna Maria Braccini e questa sera un approfondimento sul convegno con l'intervista integrale a Hermes Ronchi. Questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale, dopo di noi abbiamo già detto cosa c'è, ma successivamente non perdete ovviamente le notizie sportive con Paolo Pirovano che poi sarà protagonista insieme ad Andrea Bosio della puntata di Linea ai tifosi che ha esordito settimana scorsa con il Milan, questa volta dedicata all'Inter. Quindi interisti dalle 20 circa fino alle 20 e 30 avrete la possibilità di parlare in diretta con Paolo Pirovano e Andrea Bosio dei temi che riguardano appunto la vostra squadra. Successivamente poi alle 20 e 30 Michele Marchetti con i suoi ospiti per la lunga serata di Nova Stadio fino alle 23 si parlerà ovviamente di Mondiale ma anche di tutto quello che sta capitando in casa Juventus. Questo telegiornale termina qui e buona serata a tutti. Restate sugli schermi di Telenova.